Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv www.agrilinea.tv Ben ritrovati, oggi siamo esattamente in Puglia, localizziamoci dove siamo? Siamo a Nardò, in provincia di Lecce. Questa è un'osistraordinaria, mi sembra di vedere. Questa è un'osistraordinaria, è un'azienda olivicola che da 4 anni sta applicando la strategia di contenimento che utilizza un prodotto a base di zinco, rame e acido citrico, nebulizzandolo alla chioma una volta al mese nel periodo primaverile-estivo. Due aspetti da sottolineare sono appunto questi. Ci troviamo in un'area dove la pressione di inoculo del batterio è molto forte, come si vedrà dalle riprese aeree. E la cosa più importante è che questa azienda è in produzione. Applicando questa strategia di contenimento, da 4 anni la produzione non è affatto scesa, anzi è incrementata. Quindi abbiamo un comportamento, un protocollo, diciamo l'agricoltore deve stare a delle regole complicate, costose. Le regole sono molto semplici, questo prodotto si applica o con l'atomizzatore, col classico atomizzatore o con la lancia, una volta al mese, dicevamo nel periodo primaverile-estivo. E' altrettanto importante, come potete vedere già in un'altra parte dell'azienda, una serie di pratiche agronomiche, in questo caso la spollonatura, ma anche la potatura fatta a danni alterni e una cura del terreno, volta anche a togliere le marerbe, le rempo infestanti, nel periodo da febbraio ad aprile, cioè il periodo in cui il vettore, la sputacchina, ha nelle sue forme giovanili una minaccia futura per l'impianto. Quindi partiamo da un dato, terreno lavorato e non inerbito? Terreno lavorato e non inerbito, con questi sfalci ripetuti durante la stagione primaverile-estiva, e poi cura dell'albero, in particolare con le potature e le spollonature. Con le potature, ecco, dobbiamo cambiare tecniche di potatura? Allora, più che cambiare tecniche di potatura, è il periodo in cui, o meglio, la frequenza annuale o biennale con cui effettuare le potature. Molto spesso nel Salento si applicano potature ogni 4-5 anni con dei ritmi e dei volumi di potatura piuttosto drastici, per cui si possono assistere a delle vere e proprie sbrancature che in questo contesto di malattia non aiutano certo l'albero a fronteggiare il batterio. Diciamo con questa tecnica, avviciniamoci, facciamo vedere all'operatore anche il prodotto. Sì, questa è una pianta in produzione. Vorrei dire un'altra cosa importante che riguarda la scelta di questo prodotto. La scelta di questo prodotto si è basata su degli studi di base effettuati negli Stati Uniti di America che hanno individuato negli ioni rame e zinco quelli più efficaci nel ridurre sia la moltiplicazione di xylella fastidiosa che la formazione di biofilm da parte dello stesso all'interno dello xylema delle piante. Sappiamo che il biofilm è quella masserella di batteri di xylella che occlude i vasi xylematici e quindi impedisce il trasporto dell'acqua dalle radici alla chioma provocando i noti dissecamenti. Per quanto riguarda altri studi correlati alle strategie di contenimento possiamo dire che recentemente grazie a una collaborazione tra Crea e Università del Salento nell'ambito di un accordo con la regione Puglia è stato in effetti confermato che i micronutrienti sia nel suolo che nella pianta giocano un ruolo molto importante nel capire in generale tutta sia la sintomatologia della malattia che l'evoluzione del batterio stesso all'interno della pianta e in effetti abbiamo confermato che piante colpite da xylella fastidiosa hanno un contenuto di rame molto più basso rispetto agli altri quindi aumentare la dose di rame e di zinco nelle foglie è di fondamentale importanza per il controllo della malattia. Noi abbiamo una brutta colonna sonora, sentiamo le motoseghe in azione sono molto vicini a questa area ben curata, ben gestita. Magari è un brutto effetto da un punto di vista della ripresa ma nel contempo invece è un'operazione molto importante perché come accennavo prima in questo momento stanno effettuando la spollonatura della pianta in un discorso di equilibrio vegeto-produttivo questa operazione è fondamentale proprio per dare più forza alla chioma rispetto ovviamente ai polloni che potrebbero sottrarre il nutrimento alla pianta. Quindi queste piante che noi vediamo anche dall'alto, che sembrano appassite, possiamo recuperarle? Allora possiamo recuperarle a patto che si effettuino come nel caso di questa azienda con regolarità, continuità e tempestività quelle operazioni che accennavamo prima quindi i trattamenti una volta al mese a partire da marzo-aprile fino a fine estate, inizio autunno la movimentazione del terreno, quindi le sfalciature o le erpicature per togliere le erbe infestanti e queste operazioni alla chioma, potatura e spollonatura. Quanto è bella questa Puglia, vista dall'alto, dal basso. Sì, la Puglia è sicuramente bella dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista agronomico è antica, è una Puglia, è un'agricoltura antica. Questi ruderi, queste masserie che hanno segnato il tempo e alcune le stanno recuperando in una maniera straordinaria in mezzo a questi ulivetti poi è il contesto giusto. Sì, certo, uno degli appeal principali che invitano tanti turisti degli Stati Uniti e da tutto il mondo è questo connubio di mondo rurale e alimentazione soprattutto. L'alimentazione è molto apprezzata. Ecco, noi conosciamo molto bene la Puglia perché siamo andati in diversi campi produttivi da lua da tavola ai frutteti agli ulivetti. Noi siamo arrivati oggi per capire bene se è questo disastro della Xilella. Così a volte questi messaggi un po' disperati. Poi ci accorgiamo che ci sono anche delle osi felici come può essere questa. Ci accorgiamo che la ricerca non si è affermata. Ci accorgiamo che non è vero che bisogna tagliare via tutto perché questo è un paesaggio, il nostro paesaggio del Mediterraneo dobbiamo conservarlo. Ci invidiano tutti. Certo, ma proprio perché da cinque anni sia la comunità salentina che le istituzioni hanno avviato questo approccio multidisciplinare sulla ricerca per la soluzione di questo problema di dissecamento che per noi è essenzialmente la perdita di produttività delle piante. Con la chiusura dei frantoi, perdita di giornate lavorative, quindi c'è un problema sociale. Di produzione, di prodotto. Assolutamente, per il prodotto si lega con un problema sociale perché noi stiamo avendo un crollo della redditività sia dei proprietari che dei braccianti. Noi abbiamo visto ricerca pubblica e ricerca privata che si sono in qualche modo messi insieme per provare, sperimentare. Il professor Scortichini, fra l'altro noi lo conosciamo da vecchia data, è tenace, non molla. E devo dire che in questo caso, in diversi casi che noi verificheremo con le nostre telecamere perché andiamo a vedere in campo. Certo, io invito tutti quanti quelli che vogliono comprendere il problema della Xilella e che me ne chiedono Contezza di passare due o tre giorni e visitare le aziende, verificare di persona. Lei è un ricercatore ma non solo, un osservatore, ricercatore, fa parte anche di una rete di osservatori del Mediterraneo. Mi sembra che siamo sulla buona strada. Questo è un protocollo che secondo me sta dando dei risultati. Queste sono le dimostranze in campo, diretto. Certo, è un protocollo che sta dando dei risultati oggettivi. È un protocollo che è compatibile anche con l'agricoltura organica, biologica, perché si utilizzano prodotti ammessi nell'agricoltura biologica. È un protocollo che sta restituendo a questa comunità, a questi produttori, anche il sapere e il piacere di curare l'albero in tutti questi mesi. Perché diciamo che nell'ultimo periodo, negli ultimi decenni, l'olivicoltura nel Salento, come in altre zone dell'Italia, senza criminalizzare e generalizzare, è stata un po' abbandonata. Oggi ci troviamo con delle regole, diciamo, restrittive? No, assolutamente. Le regole che potrebbero sembrare apparire restrittive per qualche agricoltore che ha avuto la tradizione della produzione qua nel Salento sono regole di ordinaria amministrazione in altre aree della Puglia. Quindi è semplicemente un momento di stabilizzazione, di uniformità della produzione, della standardizzazione del modo di gestire l'oliveto in tutta la Puglia. La Puglia è la regione che produce più olio in Italia, dal 35 al 50%. Quindi se non insegniamo noi come produrre l'olio... Siamo ottimisti. Lei è un ottimista per Natura? Io sono un ottimista soprattutto perché baso le mie riflessioni sul fatto che la regione Puglia non sta favorendo solo un protocollo. Sta cercando con molti sforzi di consegnare ai produttori una cassetta degli attrezzi dove ognuno sceglierà quello che è l'approccio più adatto alla propria azienda, alla propria cultura. Quindi su questo io sono ottimista, o meglio sono realista, so che si sta facendo molto da questo punto di vista. Quindi bisogna andare al mercato con delle regole precise, dobbiamo stare sui territori avendo delle tecniche precise e noi possiamo ribadirlo questo protocollo. Adesso ritorniamo poi con il professor Scortichini per capire bene questo protocollo, anche perché non mi sembra così difficile da attuare. Non voglio dire banale però... No, è un protocollo che ha il vantaggio di essere estremamente semplice, utilizza dei mezzi ordinari come quelle che sono le macchine per distribuire fitofarmaci, rientra anche nella gestione di controllo di altri patogeni e poi soprattutto è un prodotto che, essendo un concime fogliare, quindi non essendo soggetto alle restrizioni del PAN, del decreto legislativo sull'uso dei pesticidi, potrebbe consentire una diffusione capillare anche per quegli olivicoltori che sono amatoriali o sono olivicoltori marginali. Non dimentichiamo che il Salento non è una zona dove ci sono grandi latifondi, è una zona dove ci sono oliveti parcellizzati, abbiamo anche unità produttive di 2.000 metri quadri, 3.000 metri quadri, quindi là si pone un problema anche dal punto di vista dell'applicabilità. Inoltre è un protocollo che si può ben adeguare alla strategia di controllo per l'agricoltura biologica e che, come sappiamo bene, è l'agricoltura che sta dando sul mercato risposte interessanti, commerciali. E' considerato il vantaggio che ha il Salento, a differenza della provincia di Bari o delle altre realtà rurali, e che oramai è diventata una meta consolidata di turismo, anche turismo di alto livello, quindi è come se queste aziende potessero avere potenzialmente una vetrina, un mercato, un centro commerciale direttamente a Berlino, perché poi vengono, per fare un esempio, vengono i berlinesi, vengono i francesi, gli inglesi e comprano il prodotto da qui, magari si affezionano e chissà anche un discorso di commercio elettronico può favorire ulteriormente queste piccole produzioni. Amiamo il Salento, amiamo questa regione, la nostra bella Italia, amiamola tutta, riempiamoli questi piccoli frantoi, purtroppo mi hanno detto che sono stati chiusi, aiutiamoli, che ne so, non facciamo solo delle mostre fotografiche, rendiamoli vivi. In questi giorni, con un'azione molto decisa da parte della Regione Puglia, si stanno applicando delle norme anche attraverso il PSR che favoriscono per quanto possibile i frantoi che sono stati colpiti da questo male, quindi anche dal punto di vista istituzionale la parte della trasformazione verrà aiutata con una serie di sgravi, ma soprattutto con la possibilità di finanziamenti. Avete visto che la politica non è così distante poi dalla realtà? Ha bisogno di un po' di tempo per mettere pace tra gli animi che ovviamente in una situazione di grande tensione come questa crisi si sono create. Questa è una realtà, una crisi che ha comportato anche una crisi dialettica, di rapporti sociali che ha complicato molto la... L'ulivo unisce. L'ulivo unisce, ma in questo caso purtroppo è stato disunisivo. Divisivo, sì, perché la tensione... Allora, noi vogliamo essere positivi come sempre noi di Agrilinia, però queste sirene che abbiamo acceso hanno fatto bene forse in un primo momento, ora troviamo una soluzione e mi sembra che le soluzioni sui territori si stiano trovando. Le soluzioni si stanno trovando e devo dire grazie alla ricerca che da tanto tempo ha consolidato un'esperienza come nel caso del CREA, ma soprattutto grazie a questi imprenditori molto tenaci che nonostante tutta una serie di messaggi negativi hanno scommesso e hanno vinto come in questo caso. La motosega l'hanno spenta? Solo per spollonare? La motosega l'hanno spenta, non tutti. Qualcuno la utilizza giusto per facilitare e alleviare i costi di produzione, però diciamo che in questi casi siamo fiduciosi del fatto che la motosega venga accesa una volta ogni due anni per fare quello che si fa ordinariamente. Qui siamo a Galatone in un campo sperimentale dove da tre anni stiamo effettuando alcuni esperimenti per capire meglio ancora come funziona il prodotto. In particolare qui abbiamo effettuato degli studi di endoterapia, ma anche degli studi dove, come avete potuto vedere dall'immagine precedente, è stato possibile recuperare un albero dove tre anni fa mostrava dei sintomi molto evidenti di avvizzimento con il protocollo di contenimento di cui stiamo parlando oggi. Quindi a seguito dei soliti sei trattamenti nel periodo primaverile estivo, dopo tre anni, ecco vedete la pianta come ha recuperato. Questo è un campo sperimentale, però il risultato l'abbiamo visto prima, siamo andati direttamente in azienda per capire, per toccare con mano. Devo dire che è un bel risultato. Direi di sì. Attorno vediamo dall'alto che ci sono degli impianti che sono proprio appassiti nel vero senso della parola. Beh, quello che abbiamo visto stamattina rispecchia un po' anche quello che era stato visto nella sperimentazione ufficiale fatta da CREA nel triennio. E quindi per me non è una sorpresa questa. Lo è per noi, perché abbiamo sentito dalla stampa, anche specializzata, che sembrava non esserci rimedio. Il rimedio, perlomeno nei protocolli che ha messo a punto il dottor Scortichini, in una ipotesi di contenimento c'è, lo si vede, lo sappiamo. Ed è tangibile. Ed è tangibile. Questa è una pianta, no? Tre anni fa l'abbiamo visto. Certo. È chiaro che occorre mettere in atto tutta una serie di mezzi, non è il solo prodotto che può fare il miracolo, ma in ogni caso ha una importanza notevole su tutto l'insieme di misure che ci permettono di convivere con il batterio. Non pensiamo di poter, nessuno può pensare di eliminare un batterio. i batteri non si eliminano. C'è un comportamento da seguire di campo? È una sorta di anche tecnica? Sì, c'è un comportamento, nel senso che, dicevo prima... Un protocollo? C'è un protocollo, vanno messo in atto tutta quella serie di misure, innanzitutto dalla pulizia, dalle potature, i trattamenti sia sul vettore che sul batterio, l'elevorazione del suolo e la fertilità, naturalmente. Tutto questo insieme di misure ci aiutano e ci permettono, come in moltissimi altri casi. In questi anni abbiamo vissuto problemi non meno importanti, a partire dall'Ervinia sul Pero, dal PSA sul Kiwi, batteri molto aggressivi, forse più di questo, ma quell'insieme di misure, con il tempo che sono state messe in atto, ci hanno permesso di convivere. E quindi io credo... Convivere. Ecco, ci piace... Convivere e di convivere. Ci piace questo suo... Convivere. No, non di eliminare. È impossibile eliminare. Assolutamente. Noi a questo punto dobbiamo parlare di questo prodotto, che non è miracoloso, come diceva, giustamente, perché bisogna comportarsi in maniera... avere un comportamento agronomico fatto bene, come diceva prima, ma il prodotto lo si trova in commercio, è un concime semplice da distribuire, diversi prodotti. Ecco, ci spieghi un po' questo prodotto che lei in qualche modo oggi rappresenta. Sì, il prodotto è la paternità di una società di ricerca israeliana. Io, in particolare, come società, abbiamo otto anni fa introdotto questo prodotto in Italia attraverso una serie di sperimentazioni e di ricerche su batteriosi cattive. Quindi abbiamo fatto un lavoro importante su molte patologie, in particolare sulle batteriosi. Del kiwi, per esempio. Quella del kiwi, quella del pero, quella del nocciolo, la xylella, il savastano e il sull'olivo, quindi la rogna, con diversi istituti universitari di ricerca. Quindi queste cose sono... la conoscenza del prodotto è uscita attraverso tutta questa serie di ricerche. Il prodotto è stato un brevetto di questa società israeliana, è ufficialmente nato come concimece, è una miscela di zinco e di rame, ma formulata, e qui sta il motivo del brevetto, formulata attraverso una serie di passaggi complessi. Questo è un po' il motivo che giustifica l'esistenza di questo brevetto. Quindi l'azione del prodotto, che ha una fortissima sistemia, è innanzitutto un'azione di nutrizione, perché l'effetto correttivo sulle carenze si nota immediatamente, ma la capacità del prodotto è quella di aumentare in modo abbastanza temporaneo la concentrazione di zinco e di rame nei tessuti vegetali e questo dà un grande fastidio, in particolare ai batteri. Il protocollo prevede fondamentalmente un trattamento autunnale, molto importante dopo la raccolta, e direi dei trattamenti primaverili e estivi. In totale, in funzione anche della gravità dei sintomi, della gravità della situazione, possiamo provvedere da 5 a 6 interventi al massimo per anno. Ecco, parliamo di un prodotto con cime fogliare, ma nel prodotto, con un gioco di parole, leggiamo poi un residuo o dei residui? Allora, premesso che il prodotto peraltro è anche un prodotto a livello europeo, come legislazione consentito in agricoltura biologica, il valore del residuo è praticamente nullo. Qui parliamo di distribuire con i 5 interventi 250 grammi, se parliamo di rame, 250 grammi di rame per ettaro, che è meno di un decimo, un ventesimo della quantità. Si distribuisce con l'atomizzatore? Si distribuisce con l'atomizzatore, però può anche essere distribuito attraverso i sistemi di fertilizzazione. Il prodotto è, lo sappiamo che abbiamo esperienza in questo, è assorbito in modo rapidissimo anche dall'apparato radicale. Non solo sulle foglie? Nel caso della xylella pensiamo che gli interventi più efficaci siano quelli a livello fogliare. Su altre batteriosi abbiamo esperienze invece in cui anche il trattamento radicale sottisce degli effetti molto positivi. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Grazie a tutti! Grazie a tutti!